La verità è che non c'è nessuno là fuori. Dove vai? Magari prima avevamo ogni cosa possibile, ma non eravamo felici. Madre, è tutto a posto. Certo. Comincia a spaventarmi. Alma, tranquilla. Qual è la prima regola? Non uscire di giorno. Cerco di essere una buona madre. Siete entrati nel magazzino? È un telefono, non lo so. Ma stavamo solo. Non è una cosa bella mentire a una madre. Fa così perché è preoccupata per noi. Apri la porta, ti prego! Questa sei tu e questa sono io. Fa così perché è preoccupata per noi. Adesso non posso proteggerti più.